Un clima surreale questa mattina a Palazzo dell'Emiciclo. La notizia dell'arresto dell'assessore alla sanità Venturone del ciclone giudiziario che ha travolto i vertici del PDL regionale è una bomba che esploda l'indomani di un'altra giornata campale che ha visto l'occupazione da parte dei comitati cittadini dell'Aula del Consiglio regionale. I primi a parlare, a commentare, sono i consiglieri di opposizione. Intanto nessuno si sfreghi le mani su una situazione di difficoltà che coinvolge innanzitutto delle persone. Dopodiché è evidente che il problema è politico perché questa inchiesta coinvolge e riguarda i massimi vertici del PDL in Abruzzo. E poi c'è un problema, a mio giudizio, di natura istituzionale. Oggi in Giunta mancano di fatto due assessori dopo meno di due anni dall'inizio dell'esperienza a Chiodi. Io credo che non ci siano più dubbi. L'inchiesta che ha portato agli arresti di questa mattina rivela l'esistenza di una vera e propria cricca. Chiodi è stato eletto e scelto dai cittadini abruzzesi perché si è posto come alternativa immacolata al sistema di potere che lo aveva preceduto. Questo rapporto di fiducia con gli elettori nato da un senso di legalità che aveva portato gli abruzzesi a fare questo tipo di scelta si è rotto. E questo ci induce a ritenere che Chiodi si debba dimettere e che le parole debbano tornare immediatamente ai cittadini. Chiedono con forza lezioni anticipate e dimissioni immediata del presidente Chiodi anche Verdi, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani. I consiglieri di maggioranza intanto in mattinata hanno ottenuto un vertice. Bocche cucite all'uscita, irreperibili quasi tutti dopo pochi minuti. A parlare solo il capogruppo PDL Gianfranco Giuliante. Stiamo aspettando di capire quello che sta succedendo. Ci troviamo di fronte a notizie frammentarie che non ci consentono un giudizio rispetto all'accaduto. È previsto una riunione di maggioranza nella quale anche alla luce di tutte quante le notizie che riusciremo ad avere con lo scorrere della giornata faremo delle valutazioni che daremo alla stampa. Più articolata è la posizione dell'Udc che ritiene il voto anticipato una iattura per una regione in ginocchio come l'Abruzzo. In un momento in cui la regione è in grande difficoltà per il terremoto, per la sanità, per i debiti, per l'occupazione, la crisi industriale e quant'altro forse è necessario, io lo chiederò al Presidente Chiodi, di coinvolgere anche le opposizioni magari di fare una nuova giunta di responsabilità anche qui in Abruzzo perché sarebbe una iattura tornare alle elezioni.